Partiti 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 Un sensazionale colpo di reni conclusivo quello congiunto tra Pasquale Borrelli e Mr. Gotham è il numero 5 che a 15 contro 1 fa sua la listed con pieno merito davvero al termine di una corsa giostrata magnificamente, uno scatto imparabile, però tutti i cavalli avete visto sono più o meno in linea, emerge anche De Meteor all'interno per mettere in salvo la seconda moneta.